Ha avuto inizio con una conferenza nella Sala Finocchiaro della Fabbrica di San Domenico la 28esima edizione del Convegno Molfettesi nel Mondo, organizzato dalla omonima associazione con il patrocinio di Regione Puglia, Provincia di Bari e Comune di Molfetta. A fare gli onori di casa il Presidente dell'Associazione Franco Pappagallo, il Segretario Luigi Biceglie e il Vice Sindaco della città di Molfetta Pietro Uva. Ricco il programma di iniziative che continueranno fino al 9 settembre. Dopo l'incontro con il Vescovo Monsignor Martella previsto per la mattinata di mercoledì, giovedì 3 settembre alle ore 19 gli emigranti parteciperanno alla Santa Messa nella Basilica della Madonna dei Martiri. Poi venerdì 4 settembre alle 19.30 il concerto lirico-sinfonico del di Venere Ensemble di Musica presso il Chiostro della Fabbrica di San Domenico. Il 5 settembre l'appuntamento consueto con il Molfetta Day all'interno della sala consigliare Giovanni Carnicella. Poi il 6 settembre Gran Calà presso il ristorante Hotel Garden. Momento di maggiore attenzione e di coinvolgimento spirituale l'8 settembre in occasione della processione in onore della Madonna dei Martiri. Si chiude il 9 settembre con i saluti e l'arrivederci al 2010.